Non si possono decidere, ma con una nuova legge elettorale. Dunque una situazione politica complicata e in divenire. Allora per le ultime novità noi ci colleghiamo con Montecitorio dove c'è Elisabetta Margonari. Letta, appena rientrato dagli Stati Uniti, ha già incontrato Alfano. Questo è il primo atto di una situazione che ormai possiamo definire di pre-crisi. Alle 4 vedrà Epifani e poi, come abbiamo sentito, salirà al culinare. L'incontro con Napolitano dovrebbe essere alle 5.30 di questa sera. Un chiarimento definitivo, bisognerà poi aspettare martedì per averlo, quando quel giorno pare che sia proprio quello scelto da Letta per presentarsi alle Camere con il suo discorso su cui chiederà questa rinnovata fiducia. Il percorso lo conosceremo quindi probabilmente questa sera. Questa sera, quando si sarebbe dovuto, era fissato il Consiglio dei Ministri, per ora congelato. La convocazione formale non è stata ancora diramata, i ministri sono comunque pre-allertati. Pre-allertati in una situazione certamente di anomalia, perché ieri Brunetta ha detto che aveva ricevuto il 100% delle lettere, quindi delle disponibilità alle dimissioni, dei suoi deputati. Questo vorrebbe dire che anche Alfano, Lorenzin, Nunzia De Girolamo e Lupi hanno consegnato appunto questa disponibilità alle dimissioni, quindi dimissionari e insieme ministri. Tutti, tranne Quagliariello, che invece abbiamo sentito, ha detto che le dimissioni non si annunciano, si danno. Quindi dimissionari e ministri, questa sera probabilmente a Palazzo Chigi, dove all'ordine del giorno ci sono temi fondamentali, perché quello che va discusso è la manovrina per rientrare dal 3% nel rapporto debito-PIL e poi la questione dell'IVA che scade il primo di ottobre. Vedremo nel pomeriggio cosa accadrà. A voi la linea. Grazie.